Dopo le fatiche di Coppa Italia tornano i campionati di Serie A2 e Serie B. In A2 nella girone est per Roseto è un vero e proprio big match in chiave play-off. Alla Palamaggetti domenica con palla 2 alle ore 18 arriverà Imola Paiata quota 22 in classifica e guidata in pantina dal grande ex Emanuele Di Paolo Antonio. Attenzione ai terminali offensivi americani. B.J. Raymond miglior realizzatore della formazione di Imola a 19,9 punti di media partita. Timothy Bowers 15,9. Sul parquet del Palamaggetti si rivedrà anche l'ex playmaker Robert Fulz 29,2 minuti di utilizzo meteo a gara 9,1 punti soprattutto 5 assist a partita. Ci sarà anche l'ex Chieti Lungo e Emanuele Rossi 9,8 punti di media partita. Con 22 punti a testa le due squadre si contendono un posto nei play-off. Roseto è in un ottimo momento di forma. Vincere questo match significherebbe strappare quasi definitivamente il pass per la post-season. In Serie B spicca il derby di Giulianova tra i padroni di casa e il Teramo. Gli uomini del presidente Ruscitti vogliono punti utili per la salvezza. Giulianova vuole continuare a navigare nelle zone medio-alte della classifica. L'Europovini Chieti con Damiano Cunego, ospite d'eccezione, vuole continuare la sua corsa per il secondo posto. arriverà al Palatricalle Bisceglie, mentre Pescara dopo la delusione di Coppa Italia ospiterà Civitanova. La formazione di coach Stefano Raiola è uscita comunque con il morale alto dalla Kermesse di Porto Sant'Elpidio. Gli abruzzesi infatti sono stati gli unici a limitare davvero e con tanti rimpianti dovuti a qualche fisco arbitrale sbagliato Omenia che poi ha dominato la manifestazione. Chiude il quadro degli abruzzesi, Campli impegnata in casa contro Ancona. Grazie. Grazie.